Buonasera a tutti, sono Stella Boso di Trading Library, sono finalmente qui con Paola Gentili nei suoi uffici e abbiamo proprio avuto adesso una piacevole chiacchierata su quello che è stata la settimana scorsa con Vivere di Mercati, quindi io non voglio rubare altro tempo, vi ringrazio per la vostra partecipazione e cedo subito la parola a Paola perché ha tantissime cose da dirvi, buon webinar! Eccomi qua, buonasera a tutti, grazie di essere qui con me in questo giovedì sera alle 18.30, chi già mi conosce per piacere mi confermate solo che mi sentite perché adesso che Stella ha lanciato il webinar 3D stasera, ho messo io le cuffiette e possiamo, benissimo, si sente, possiamo partire col webinar di oggi. Allora, per chi vedo che tra i partecipanti siete veramente numerosi stasera, ci sono tanti che sono già iscritti al sito, al servizio Vivere di Mercati, quindi loro già sanno un po' come vengono svolti i webinar da parte mia. Per chi non è iscritto al nostro servizio vi spiegherò come ho intenzione di far evolvere questo webinar stasera. Come al solito vi parlerò principalmente dei mercati, di quello che sta succedendo, di questa, come Stella l'aveva definita, tempesta perfetta, ma in realtà vi spiegherò perché per me non è ancora una tempesta perfetta, ma data la difficoltà dei mercati finanziari da inizio anno ad oggi, voglio lasciare ampio spazio a voi per fare le domande che più ritenete necessari o quello su cui volete che si possa guardare assieme e si possa darvi io una risposta. Io ho già aperto come vedete la mia finestra di Bloomberg, ho aperto e chi ha o anche solo acquistato il libro Vivere di Mercati dovrebbe avere conoscenza della piattaforma di ProRealTime che è questa qui, però purtroppo mi sono accorto per esempio che le chiusure di stasera non sono ancora aggiornate rispetto a quelle di ieri. Poco mi importa perché abbiamo comunque Bloomberg, utilizziamo benissimo Bloomberg che ho settato e vedremo le stesse cose che vediamo oggi, che vediamo su ProRealTime, ma mi è un po' più veloce per farvi vedere quello che è i grafici settimanali. Chi ha seguito e ha sentito il webinar mio commesso per gli utenti nel weekend, che ho registrato domenica e lunedì, era pronto pubblicato sul sito, sa che questo rialzo che è avvenuto in questa settimana non ci ha assolutamente non solo colto di sorpresa, ma siamo stati anche pronti a sfruttarlo questo rimbalzo dei mercati. Vedete anche solo per Borsa Italiana al close di stasera abbiamo un year to date di meno 20%, sapete benissimo che fine settimana passata la Borsa Italiana era arrivata a perdere il 26, il 27% quasi. Quindi vuol dire che in questo inizio di ormai quasi fine, perché oggi è giovedì in questa ottava, i rialzi sugli indici sono stati piuttosto piuttosto considerevoli. Lo sono stati ancora di più per i titoli chiaramente, non solo per i titoli bancari, ma poi ne andremo ne andremo anche a vedere alcuni per i titoli legati per esempio all'oil, per i titoli legati alle commodity, nella maniera specifica anche ai mining, sempre settori e idee di investimento che ne ho discusso più volte con i miei utenti su vivere di mercati. Da inizio anno più o meno, che continuo a dire, il settore per il quale puntare a fare performance durante il 2016 è principalmente per quanto mi riguarda le industrie legate all'oil e le industrie legate al mining. Tempesta perfetta, diceva Stella, tempesta perfetta leggo e sento su più parti, su più siti, su più report, su più tv finanziarie. In realtà voi sapete benissimo che a posteriori le scuse e le motivazioni per il quale i mercati si muovono al rialzo o al ribasso ne possiamo trovare a decine se non anche di più. Quali sono i motivi che hanno fatto sì che gli indici, le borse europee e non solo pensiamo anche all'asiatica, pensiamo alle americane, hanno perso così tanto e così violentemente da inizio anno. Qui vedete per esempio Borse Italiana e vedete rispondendo a un utente un giorno mi ha detto ma così violenta come sta avvenendo adesso non l'abbiamo mai visto. In realtà non è vero perché ho dimostrato, vedete che dal massimo, perché io più che year to date prendo proprio il massimo di 24 mila, di area 24 mila, quanto ha perso Borse Italiana al minimo? Aveva perso oltre il 34%. Ma guardate l'inclinazione, la pendenza, la violenza che c'è stato in questo inizio d'anno, com'è molto simile alla violenza, la pendenza del ribasso che c'è stato nel 2011 quando c'era la crisi in cui si è avuto il culmine nell'agosto-settembre del 2011 quando c'è stata la crisi dei debiti sovrani europei in cui sembrava che tutti gli stati europei dovessero fallire Italia per prima e non solo la Grecia, Italia, Spagna, Grecia, Portogallo e quant'altro, ma che addirittura l'euro fosse al termine, periodo nel quale mi arrivavano domande o telefonate a chiedermi come faccio a comprare l'euro tedesco. Per cui vedete che movimenti comunque violenti sui mercati ci sono sempre. In più, Borse Italiana ha finito l'anno dicendo la migliore borsa di tutta Europa per il 2014, sì, peccato che, e ve lo faccio vedere, peccato che dal minimo che hanno registrato i mercati nel 2009, Borse Italiana sia una di quelle borse che ha fatto meno rispetto a tutte le altre. DAX, S&P, Nasdaq, eccetera, persino la Svizzera ha fatto più del 200%, mentre Borse Italiana non è riuscita a portare a casa neanche un più 1%. Ma detto ciò, proprio quando si arriva, e lo vediamo molto meglio sull'America, quando si arriva da così grossi periodi di mercati al rialzo e di mercati toro, poi le discese sono altrettanto ruvinose. Guardate, borsa questa è l'S&P 500 su scala giornaliera. Quello che vedete qui sui grafici di Bloomberg, l'oscillatore sotto, il nostro amico Ugo, due medie mobili, tre medie mobili, scusatemi, la 35, la 65 e la 200, sono le stesse che vedremmo qui. Perché vengo velocemente su ProRealTime a farvi vedere il grafico settimanale dell'americano, perché questa tempesta perfetta sui mercati, in realtà, poi vedremo che DAX e Italia e tante altre in Europa hanno violato la media mobili a 200 periodi su scala settimanale, ma l'America, l'S&P 500, no. Ancora per una volta Area 1815-1800 ha fermato questa discesa. e capirete bene da soli che dopo un rialzo dal minimo di marzo 2009 al massimo dell'estate 2015, la borsa americana ha messo a segno quasi un 217%. L'aver perso poco più del 10% lo vedete da voi, il 15% lo vedete da voi, non è assolutamente nulla. Guardate com'è piccolo, com'è piccolo il movimento di ribasso rispetto all'intero movimento di rialzo. Non vi metterò filbonacci, non vi rimetterò ritracciamenti, non vi rimetterò nessuno di queste cose perché chi mi segue sa e chi ha letto il mio libro sa che assolutamente non sono utilizzati da me per lavorare sui mercati finanziari, ma finale di settimana scorsa ho detto fate attenzione perché veramente, veramente, e vediamolo anche qui su Bloomberg su scala settimanale, ciò che è successo non è nulla. La tempesta perfetta o l'uragano perfetto avverrebbe se l'America perdesse veramente la media mobile a 200 periodi, cosa che solo marginalmente ma prontamente recuperata è successo nel 2011 e nel 2010. Ma guardate da quanto tempo non perde la media mobile a 200 periodi, per cui questo vale anche per le prossime giornate, vale anche per le prossime settimane. Tenete fisso soprattutto su Borsa americana l'importanza del tenuto del supporto in area 1815-1800, perché veramente la perdita di questi valori vorrebbe dire poter vedere un indice arrivare velocemente in area 1730 e poi seguiremo l'eventuale di evoluzione. Questo mi porta a dire, mi porta a dire che i rialzi avvenuti in questi quattro giorni di borsa di mercati e andiamo, finiamo con l'euro, con la borsa americana proprio perché è qui ed è quella su cui stavamo ragionando. Guardate come nella giornata di oggi ancora sta lottando con la media mobile a 200 periodi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se l'America, ma questo vale anche per gli altri indici, lo vedremo, Italia e DAX per primi, se l'America riesce a superare veramente 1930, la prossima resistenza è identificabile nella media mobile a 65 giorni in area 1956 e l'ultimo baluardo, finché non verrà superata la media mobile a 200 periodi su scala giornaliera area 2000 più o meno, per me il movimento a ribasso iniziato con le prime avvisaglie ad agosto 2015 e proseguito in questi due mesi di inizio 2016, non è assolutamente terminato. Andiamo a vedere Borsa Italiana perché ahimè è sempre il mercato più seguito da tutti voi, grafici scala giornaliera, guardate dove è arrivato, è arrivato a testare col massimo di oggi in area 17.600, una prima resistenza importante. Se non riuscirà Borsa Italiana a superare area 17.600 e guardate come il nostro metodo di lavoro ancora ci sta dicendo, nonostante un rialzo del 6-7% in una settimana, non ho ancora un segnale di acquisto su Borsa Italiana, lo avrei con il nostro amico oscillatore al di sopra di quota 20 e con i prezzi al di sopra dall'Ema 35 periodi. Detto ciò, questo bel rimbalzo i miei utenti se lo dovrebbero essere presi come se l'ho preso anche la sottoscritta a iniziare dal finale di settimana passata. Personalmente ho chiuso oggi pomeriggio in area 17.300 il long che avevo aperto, prevedendo la fatica e la debolezza che aveva Borsa Italiana rispetto agli altri future sugli indici, ho deciso di contabilizzare il guadagno portato a casa. Vedremo nelle prossime giornate se area 17.000 non dovreste mostrarsi un valido supporto, ricordatevi che abbiamo un gap da chiudere a quota 16.500 nuovamente, ma soprattutto col nostro amico Ugo che non ci ha fornito segnali di cambio di trend a breve se non solo di rimbalzo. Andiamo a vedere anche il DAX, vedete anche il DAX è arrivato nella giornata di oggi a toccare la media mobile a 35 periodi, Ugo quota ancora sotto 20, quota 80, nelle prossime giornate superamento di area 9.600 che è la media mobile a 35, prossimo target 9.900 e molto ambizioso 10.300. Per cui vedete che potenziali di salita ci sono, ma come al solito guideranno le danze gli americani. Per cui saranno, guardate il DAX, ve lo faccio vedere velocemente, il prezzo non è giusto quello di stasera, ma comunque vedete come settimana scorsa aveva chiuso al di sotto della media mobile a 200 periodi su scala settimanale e guardate come sta cercando di riposizionarsi e recuperare area 9.300 circa che è dove passa la media mobile a 200 periodi. La sfera di cristallo signori miei non ce l'ha nessuno, possiamo solo prendere atto che a superamento rialzista di determinati livelli, lo spazio di salita è per altri 400 punti almeno più o meno. A perdita di area 9.300, anche qui sul DAX abbiamo un gap up aperto a chiudere in area 8.967. Capite? Più vi faccio vedere indici e più capite perché l'Oil che nuovamente va su e giù da sopra e sotto i 30, l'Oro che ha superato e ha raggiunto i 1260, la Yellen che dichiara al congresso che, ops signori, se ci fossimo sbagliati ad alzare i tassi a fine 2015, nella seduta di dicembre, saremo pronti a riabbassarli un'altra volta. Nella sessione del 10 di marzo della BCE c'è già chi è straconvinto che Draghi porterà ulteriormente in negativo i tassi di interesse. Siamo in un periodo in cui le obbligazioni non rendono più niente, siamo in un periodo in cui le borse e i mercati finanziari arrivano da rialzi che durano e sono durati sei anni, sarà un anno difficile in cui dobbiamo abituarci a lavorare sulla volatilità, sulla volatilità dell'obbligazionario, sulla volatilità delle azioni, delle commodity, degli indici, delle valute. Prendiamo ad esempio, guardate in queste settimane, io dico sempre, ho sempre detto ai miei utenti, guardate i grafici giornalieri, ma guardate i grafici settimanali. Prendiamo per esempio Unicredit. Io non amo l'Italia, tutti sapete che io la lavoro veramente, veramente poco, ma eravamo arrivati nella chiusura di venerdì e di giovedì, eravamo arrivati che c'erano dei delta tra i last di chiusura e la media mobile a 35 periodi, nonostante ancora Ugo non dica di comprare un credito e nonostante sia sotto la media mobile a 35, nel quale il delta era superiore al 10%. Allora sapete bene cosa rendono i titoli di Stato italiani per esempio in un anno e sapete anche quanto sia difficile trovare rendimento su qualsiasi tipo di obbligazioni. Un 10% di rimbalzo, alcuni titoli addirittura al 20, alcuni titoli magari meno del 10%, tolti i costi per lavorare con lo strumento, quel titolo, quella valuta, sono dei signori guadagni in pochissimo tempo. Ma quando si cerca di prendere i rimbalzi, come sono tutti, fino a prova contraria i rialzi avuti in questa settimana per tutti gli strumenti e per tutti gli indici, per tutti i titoli, bisogna anche essere veloci a chiudere le posizioni e a portare a casa l'utile conseguito e poi a vedere quando, quando si vede che determinate resistenze fanno fatica a essere superati ulteriormente al rialzo, ci si fissa dei supporti e non si spostano a perdita dei quali le posizioni vengono chiuse. Guardate, voglio solo farvi vedere questo ancora su scala settimanale Unicredit, guardate come nonostante tutti i rialzi non è mai su scala settimanale Unicredit riuscita a superare, rialzo la sua media mobile a 200 periodi e guardate come i minimi della settimana passata in area 277 fossero paurosamente vicini ai minimi registrati nel 2012 e fine 2011. Questo non vuol dire che erano buoni prezzi per andare a comprare Unicredito, ma questo vuol dire che un indice americano che mi avesse perso settimana passata in 1800 così senza neanche provare un timidissimo rimbalzo tecnico voleva dire dal mio punto di vista e per come sono abituata a vivere i mercati finanziari io e a leggere ciò che i mercati finanziari cercano di dirmi da ormai 30 anni a questa parte vorreva dire che veramente c'è talmente tanta polvere sotto i tappeti, perdere 1800 c'è talmente tanta polvere sotto i tappeti che chissà che cosa state realmente nascondendo ai mercati finanziari. Detto ciò vi ripeto non è ancora successo nulla, siamo ancora in ottica di rimbalzi tecnici ma vedete con le medie mobile come è facile individuare dei livelli di supporti e di resistenza su qualsiasi strumento finanziario. Altro strumento finanziario vi voglio giusto solo a titolo esemplificativo farvi vedere quando io parlo di compagnie legate alla produzione e alla lavorazione dell'oil non mi riferisco a Eni, mi riferisco soprattutto ai titoli appartenenti alla borsa di Londra e vedete questa come rispetto alle sorelle europee abbia perso, abbia avuto movimenti molto più più violenti perché molto legati a quello che è l'andamento dell'oil, mi riferisco ad aziende principalmente quotate sul mercato di Londra o principalmente quotate sul mercato americano ma azioni che tutti presumo conosciate, l'Anglo America per esempio, mentre zitti zitti siete tutti concentrati su ciò che fanno le borse da inizio anno e sui ipotetici rimbalzi che ci possono essere su titoli bancari, questa azienda fortemente pesantemente penalizzata l'anno passato in nemmeno un mese di tempo ha portato a casa il più 115 per cento, azienda che notate bene il metodo, questo è un grafico a scala giornaliera, il metodo di lavoro che io propongo nel mio libro vivere di mercati, 500 pagine di borsa di mercati finanziari, un anno di mercati finanziari commentato day by day della sottoscritta con grafici sia fuori dal titolo anglo america da veramente tantissimi tantissimi mesi, come ogni volta se non la 65 e la 35 bloccavano qualsiasi tentativo di rialzo e come adesso la media mobile a 35 e 65 stiano invece comportandosi da supporti. Prendiamo in un'altra prendiamo Riottinto, vedete anche Riottinto da 1550 a 1888, questo chiaramente è sterline, vogliamo parlare della Glencore che era il tema dell'estate che sarebbe sicuramente fallita, ma perché queste aziende? Perché queste sono aziende, Glencore, Anglo America, BHB, Billington, Riottinto e quant'altro, anche le americane, che hanno già iniziato da tempo una ristrutturazione della società, magari da qui a fine anno, magari da qui a due anni alcune società non ci saranno più perché si fonderanno con altre, non lo so, ma guardate Anglo America di cui tanto se ne è parlato nell'estate 2015, signori Anglo America anche solo prendendo l'ultimo periodo di borsa ha messo a segno un bel più 75%. Allora avendo questi titoli voi spiegatemi perché vi dovete sempre tutti incapponire con monte dei pacchi sulla schiena? Perché? Perché vi dovete incapponire con un grafico come questo, con una società come questa? Ce sono anche un meno 51%, so neanche quando l'ho tirato. a metà gennaio probabilmente è stato titolo di webinar con i miei utenti perché non è un titolo sicuramente né che lavoro e che ne vado a lavorare, ma guardate da che cifre il nostro metodo di lavoro tolto quando è partito l'aumento di capitale di Monte Paschi nell'estate passata, tolto questo brevissimo periodo in cui aveva provato un long, guardate da che cifre è fuori, da 1.81.90, vogliamo pure esagerare? Vogliamo concedere che fuori dal titolo da 1.50? Signori siamo a 1.51, cioè perché questi titoli? il mondo, avete un mondo di titoli su cui lavorare, la Fiat stessa è stato argomento di domanda nelle settimane passate a me e avevo detto a una persona, un utente che la voleva acquistare in Area 6, scusate, fai attenzione che Area 6 regga perché se Area 6 non dovesse reggere vedete, se Area 6 non dovesse reggere avrebbe ampi spazi di discesa, è arrivata fino a leggermente sopra, questo è un grafico settimanale, leggermente sopra a quota 5 euro e personalmente me la sono comprata poco più su di 5 euro, è tuttora in essere ma se non recupera Area 5.80, 5.90 se il rialzo degli indici è finito oggi sarò anche veloce a chiudere questo mini gain che ho realizzato in questa settimana, in questi 10 giorni, viceversa se superasse per esempio di Fiat, ma potrei farvi tutti gli esempi di questo mondo, Area 6 euro avrebbe spazi di salita come prima istanza Area 6 e 47, Area 6 e 47 e lo vedete qui su questo valore del monitor, è il last dell'altro giorno, non di oggi perché non li hanno ancora aggiornati, è il last dell'altro giorno, la distanza, il delta tra il last e la media mobile, un 10%. Altro strumento che voglio farvi vedere, oro, io puro, come mai l'oro è salito che sale nei momenti di inflazione dei mercati, come mai? Ah no perché adesso è ritornato come bene rifugio, iuppi tutti dentro nell'oro perché è tornato come bene rifugio, sì peccato che iuppi dentro nell'oro che è tornato bene rifugio, il mio modo di lavorare me l'aveva dato quasi ormai due mesi fa, posizione long tuttora in essere, posizione long con, vedete che già qua io ho tracciato un supporto che è all'incirca Area 1.2, 1.190 al di sotto dei quali porterei a casa il gain conseguito, perché? Perché ragionando su scala giornaliera un oscillatore che ancora tuttora ha posizionato long sullo strumento, sull'oro giallo, potrebbe perdere Area 80 e se i prezzi mi tornassero al di sotto di Area 1.190 arrivare almeno alla media mobile a 35 per me sono punti, in più altra considerazione sull'oro. Poi vedo che vi ho già rubato quasi mezz'ora, guardate su scala settimanale, guardate dove nuovamente, qui me lo ricordo, agosto 2011 vacanze a Porto Cervo, uscito sole 24 ore dicendo oro sopra i 2000 atteso a 2005, pam, il lunedì dopo massimo assoluto dell'oro e dopodiché non ha fatto che scendere. Ma guardate adesso la situazione dell'oro, se non riesce a superarmi la media mobile a 200 periodi che transita più o meno in area 1.258, vedete 1.260, settimana passata il massimo e poi prostato a 1.263, se non riuscirà a superare i 1.260 e quindi a proseguire verso area 1.4 e poi un po' su un po' giù ma a cambiare quello che è una tendenza su scala settimanale che è durata anni, è il momento forse di portare a casa l'oro, euro-dollaro. Vedete come io mi sono fatto il mio bel bottoncino, scala settimanale, guardate dove è arrivato l'euro-dollaro settimana scorsa, a raggiungere la media mobile a 65 periodi, guardate dove è l'euro-dollaro adesso, in area 1.11, 1.11.10, media mobile a 35 in area 1.10.70. perdere questi livelli e sono molto simili, anche se lo andiamo a vedere su scala giornaliera, vuole dire nuovamente nuova debolezza di euro, guardate 1.10.36 la 35, 1.09.93 la 6.5, siamo sulla media 200 giornaliero, terrà? Non terrà? Non lo so, però mi fisso dei livelli al di sotto dei quali chiudo una posizione long se ce l'ho in essere o a sopperamento dei quali chiudo una posizione short se in essere. Termino con oil, poi lascio spazio veramente alle vostre domande perché presumo che ne avrete molte. Oil su scala giornaliera, guardate quante volte negli ultimi mesi è rimanato al ribasso dalla media mobile a 35. Attenzione, superamento di area 32, tendo sempre a allargheggiare, il recupero di area 32 da parte dell'oil vorrebbe dire avere spazio di salita verso area 34 e 50, 35. Capite come è facile e semplice? Truc, guardando solo un grafico, tra media mobile, un oscillatore, non usando trendline, non usando i tracciamenti fibonacci, non usando scea, non usando niente di ciò che può sporcarmi e crearmi confusione in testa guardando un grafico, com'è? Molto molto semplice. Se area 32 non viene superata è chiaro che il primo supporto importante è quota 30. Perdere nuovamente quota 30 vorrebbe tornare un'altra volta verso i minimi registrati negli scorsi mesi e nelle scorse settimane in area 25. Adesso voglio sganciare quello che sono le vostre domande, mi fermo qui, vedete quindi quanto è facile trovare le motivazioni da parte dei giornali, da parte dei media a posteriori, Renzi che litiga con l'Europa, le banche italiane devono tutte fallire, Deutsch che poi non è mica cavolo scoperto l'altra settimana che è piena di derivati come di più non se ne può a Deutsch, ha già fatto svariati aumenti capitali negli anni passati ed è anni che si sa che Deutsche Bank ha un'esposizione veramente esagerata su quello che sono i derivati, ma i derivati non si intendono i derivati degli indici, i prodotti derivati, le porcate del 2008. Questa è la realtà, solo che adesso causa Beilin nessun Stato può più salvare le sue banche, cosa che la Germania ha sempre fatto, ma cosa che signori abbiamo fatto anche noi con Monte Paschi Siena, con i Tremonti Bond. È stato lo Stato apprestato a Monte Paschi Siena quando c'erano i passati governi, per cui tutti l'abbiamo fatto, però le regole europee purtroppo adesso non lo permettono più. Intanto che voi scrivete vado a vedere velocemente domande. Allora per Antonino sarà disponibile la registrazione di questo webinar? Assolutamente sì, lo sto infatti registrando, poi lo metterò disponibile su un sito apposta che condivido con Simone di Trading Library affinché lui poi lo vada a pubblicare. Sarà pubblicato su Vivere di Mercati chiaramente free, in maniera tale che potete continuare a vederlo e rivederlo per tutte le volte che volete. L'oscillatore Ugo si trova in Pro Real Time? No, l'oscillatore Ugo si trova nel libro che io ho scritto ed è che è venduto da Trading Library, Vivere di Mercati, pubblicato a fine 2013, che è un anno intero di mercati finanziari, indici e valute, derivati e anche lavorati intraday, commodity, titoli azionari, americani, italiani e non, è un diario di mercati finanziari in cui vi spiego un metodo di lavoro basato su tre medie mobili, basato su un oscillatore che è l'acronimo di Universal Good Oscillator, Ugo alla Troisi e troverete anche le formule per potervi implementare i codici di Ugo su la piattaforma di Pro Real Time. E quindi lo troverete, lo trovate sul sito. Possibile una valutazione del titolo Blink, andiamo a vedere. Scusate ma voi non vedete la finestra, ma io sì, c'è la finestra dove io leggo le vostre domande, per cui la mia lentezza è qui. Andiamo a vedere. Scusami, come prima cosa fammi vedere, non è un titolo che io conosco, non è un titolo che seguo. Ok, giusto per vedere di cosa si tratta, numero di dipendenti, vedo che i PA non sono nemmeno pubblicati. Andiamola a vedere. Questo è un grafico su base giornaliera. Guardate da quanto tempo, ci ho dovuto allargare il grafico, guardate da quanto tempo il mio metodo di lavoro è fuori, non è long su questo strumento. Ha approvato un long in questo periodo a gennaio, è ancora in essere, ma resterebbe in essere fino a perdita della media 35. Visto che la media 35 è quota 21,46, e visto che vedo in area 20 un chiarissimo supporto statico, se sei long su questo titolo ti direi di tenerlo, ma di stoppare la posizione o di portare a casa un eventuale utile che tu possa avere se viene nuovamente persa, arrivasso area 20. Viceversa, mantenersi al di sopra di area 20 e soprattutto riuscire a superare area 25,80, 26, che è la media mobile a 200 periodi, aprirebbe ampi spazi di salita per quanto riguarda questo titolo. Andiamo a vedere qualche altra domanda. Cosa dici di Google Alphabetic? La andiamo a vedere subito perché è un titolo che conosco molto bene, è presente nel mio fondo da tantissimo tempo, da prima addirittura che cambiasse nome. Guardate, scala giornaliera, media mobile, nonostante un forte rialzo. Ecco, tanto per farvi capire, io ho presente nel mio portafoglio Google quando, prima che facesse il gap, perché è un titolo comunque americano su cui c'è sempre molto interesse, in cui ai clienti piace vedere dentro in un fondo, per cui a superamento di area 560, di area 560, sono entrata long sul titolo, è presente ancora al momento nel mio portafoglio, per cui vedete, cioè come, cioè non è che perché uno fa il gestore, anzi assolutamente, proprio perché uno fa il gestore, non è che puoi ribaltare il fondo, gli asset under management del fondo 3.000 volte all'anno, per cui tendo a prendere posizioni e se poi non ho sbagliato a leggere, se poi il mercato non mi va contro a tenerle, sono long sul titolo su Google da l'estate dell'anno passato ed è tuttora in essere la posizione, nonostante la forte oscillazione al ribasso che può avere. Guarda come se anche questo, sembra di vedere gli indici, tutti uguali, siete arrivati alla media mobile a 35, 65, ho un oscillatore ancora al ribasso, chiuderei la posizione a perdita della media mobile a 200, finché mi rimarrà al di sopra di area 684, 680, la posizione long aperta ormai quasi un anno fa per me rimane tuttora in essere. Recuperare e riuscire a superare quota 733, vogliamo pure dire 750, vuol dire riprendere, ma vuol dire che allora anche l'indice americano va sopra la 35, vuol dire che il DAX va sopra la 35 e insomma. Io lavoro solo con gli USA, sui miei grafici supporti di esistenza li ho con una SMA 20, 50-200, noto che lei innanzitutto da Temi del Tu usa 35, per quale motivo? Perché uso innanzitutto, non uso medie mobili semplici, ma uso medie mobili esponenziali, e lo vedete anche qui scritto chiaramente nella leggenda del grafico, perché uso una 35, una 65, una 200, una 200 è facilmente intuibile da tutti voi, la 200 per quanto voi crediate è quella media mobile che veramente tutti, ma tutti, ma tutti, ma tutti tengono sempre monitorati, gestori compresi, edge fund compresi, chiamateli come volete, tutti la tengono monitorata, come tutti guardano sempre anche il Golden Cross, ossia l'intersezione al rialzo o al ribasso della media mobile a 200 con la 100. Io non sono abituata a utilizzare la 100, sono abituata a utilizzare la 35 e la 65, perché sono quelle medie mobili che ho trovato dopo anni e anni di studio, che mi danno i minori falsi segnali possibili, e il minor numero di cambi di trend troppo frequenti. vi anticipo già per chi non avesse comprato il libro, per chi fosse magari intenzionato a volerlo comprare, che sul libro la 35 è in realtà una 25, perché l'ho modificata in una 35? L'ho risposto sempre a tutti sul sito Vivere di Mercati, perché facendo analizzare, questo è un metodo di lavoro Ema e Ugo, non è un trading system perché io voglio che le persone mettano la loro testa, ma che abbiano comunque da poter seguire un metodo di lavoro profittevole. Allora ho fatto verificare, e ahimè eravamo già ormai arrivati in stampa, e poi con quel libro era già stato portato avanti da un anno, ho chiesto di verificare quale fosse la media mobile più performante se Ugo, il sistema Ugo Ema, il metodo di lavoro, fosse in realtà un trading system. Ed è venuto fuori che leggermente, ma leggerissimamente, veramente pochi punti percentuali, su una base di dati dal 2000 al 2013, leggermente più performante, una 35 esponenziale rispetto a una 25. Ma i ragionamenti che io vi porto a fare in 500 pagine di libro sono gli stessi, identici, solo che anziché 25 dovete leggere 35. Altra domanda, il DAX ha superato 9337 al massimo della settimana scorsa, si può andare long? No, ma mi pare anche di averlo già detto, però io sto leggendo domande che avete scritto mentre magari io parlavo. No, e perché non si può andare long? Perché stante la situazione, io, per chi già non lo fosse, il long lo farei a superamento di 9600. E tanto, sì, però a questo punto che siamo veramente vicini alla media mobile, 35 periodi, ma sotto, e con Ugo che vale ancora 18, alzato la capina, sta cercando di salire e di superare quota 20, a questo punto, e con la volatilità che ci hanno abituati i mercati, da inizio anno ad oggi, con ribassi veramente sempre potenti e difficoltà a salire, no, non lo farei adesso, aspetterei di vedere, o vai sopra area 9600, o su ritracciamenti, valuterei qual è la posizione, ma ricordatevi che, stante la situazione di adesso, il trend per il mio metodo di lavoro, è ancora short, chi l'ha preso, abbiamo preso un gradevolissimo rimbalzo tecnico. Scusa Paola, ci analizzi il VIX? Assolutamente sì, perché i miei utenti, sono, sanno sempre che io parlo sempre di VIX, e glielo faccio sempre vedere, ma, non glielo faccio vedere con, scusate, non glielo faccio vedere con, il metodo, non glielo faccio vedere con, il mio metodo di lavoro, bensì, o meglio, glielo faccio vedere con Ugo, truc, questo è Ugo, glielo faccio vedere con Ugo, ma sono solita farglielo vedere, premetto che io lo lavoro, il derivato sul VIX, ma con time frame più bassi, non giornalieri, perché faccio sempre analizzare il VIX? Perché il VIX, è quello strumento, che mi può, cercare di dire in anticipo, rispetto ai mercati, se un rialzo, un ribasso, o un ribasso è finito, lascio una media mobile, questa sì, è una SMA, è una media mobile, semplice, a 65 periodi, perché a 65? Perché guardate, come ha lavorato bene, come ha fatto la spartiacqua, guardate come la tempesta perfetta dell'America di questa settimana, non è neanche stata lontanamente, la variazione al rialzo del VIX ad agosto, questo i signori miei, è agosto, è agosto dell'anno passato, quando già una volta, l'indice americano arrivò in area 1.800, in questa giornata di VIX, il VIX causa, causa le opzioni sottostanti, non è riuscito a aprire per del grandissimo tempo, e quando ha aperto, ha aperto con un bellissimo più 85%, che vi giuro, ho visto tantissime volte, io sarà circa 20 anni che seguo comunque il VIX, nei suoi movimenti, proprio per cercare di capire, i mercati salvano, i mercati scendono, guardate, questo è agosto, ok, è uguale, perché da 2.100, non siamo mica arrivati un'altra volta in area 1.800, largo, 50, largo circa, guardate in questa variazione di agosto, l'esplosione del VIX, guardate questa variazione di agosto, e guardate il VIX, nothing, cosa aspettarmi adesso sul VIX? Attenzione, io dico sempre, utilizzate per chi non ce l'ha sulla propria piattaforma, anche il sito Bloomberg, perché se anche ve lo dà in ritardo il VIX index, va ben uguale, adesso cosa ho? Ho area 20, che mi deve tenere, se area 20 di VIX fosse, e quindi la media mobile, a 65 periodi fosse violata al ribasso, significa, che il nostro amico americano, prosegue il rialzo, ma se quota 20 tiene, e cercherà nuovamente di riposarsi in area 30, vuol dire che ci sarà una nuova correzione sui mercati finanziari, fino a dove? I don't know, so solo che qui il long non ce l'ho, non ce l'ho ancora, ma so che qui, ho i valori da tenere monitorato, sotto 20, i mercati proseguono la salita, recuperare, già area 25, vuol dire, mmm, signori, attenzione, tutum, allarme rosso, DEFCON 4, superare i 30, vabbè, non ve lo sto neanche a dire, superare i 30, vorrebbe dire, perdere 1.800 di America, per cui dico sempre, e guardate Ugo, Ugo è arrivato a 50, chi conosce il mio modo di lavorare, sa che quota 50, che la si raggiunga scendendo, o che se la si raggiunga salendo, è un'area, un'area media, un'area veramente, molto critica, perché qui, il VIX mi sta dicendo, attenzione, sono arrivato fino a 50, e come vi ho detto, o proseguo il rialzo, e quindi, torno a risalire, verso quota 25, quota 30, oppure, mi interseco, al ribasso, cercherò di, posizionarmi, verso i 20, scenderò sotto i 20, e i mercati, proseguiranno a salire, vediamo altre domande, io uso le tue trendline, ma io non uso trendline, ci analizzi il VIX, ho letto l'anno scorso il tuo libro, non sono mai riuscita a capire, se e quando entri in un mercato, quando ne esci, gli stop loss e i target, beh, ascolta, rileggilo, ma rileggilo, magari, seguendo solo, il capitolo dell'indice americano, rileggilo solo, seguendo il capitolo del DAX, piuttosto che quello di un titolo, perché ogni giorno, in ogni momento di mercato, in cui arrivava, un segnale di ingresso, da parte del metodo di lavoro, veniva poi la posizione, seguita passo passo, day by day, e veniva registrata la giornata, nella quale la posizione, si sarebbe chiusa, stesso, identico ragionamento, anche sul capitolo, dei derivati intraday, con time frame a 15 e a 30 minuti, io vi ho segnato nel libro, esattamente la quota, in cui si entrava in posizione long o short, in cui si, in cui si, i livelli in cui si fissavano stop loss, e come si gestiva la posizione, se non andava in stop loss. Su MetaTrader, non è possibile implementare il mio metodo, no, peccato, perché tutte le altre piattaforme, tranne ProRealTime, non vogliono mettere di loro, tuttavia un utente di suo ha implementato sull'MT4, la sta verificando, e se effettivamente ciò che è su ProRealTime, è riportato e sarà identico sull'MT4, possibile che rilasci i codici anche per quella piattaforma. Francesca, lo so che hai preso il libro appena è uscito, in realtà te l'ho spedito io qua da Lugano, a casa tua. Quindi sono più guardate le medie mobile esponenziali che le medie mobile semplici? Sì, perché non è più guardate, sono più reattive, ci arrivano prima rispetto a una media mobile semplice, e quindi è il motivo per il quale utilizzo le esponenziali. Se voi vi mettete sui vostri grafici che siete abituati, guardate la 20 semplice, ok, aggiungete una media 20 esponenziale, guardate la 50 semplice, aggiungete anche la media esponenziale, la 200, aggiungetela anche esponenziale, e vedete le differenze di segnali, le differenze di ingressi, che avete con la, rapportando la media mobile semplice, rispetto alla media mobile esponenziale. Cosa ne pensi di uno short su Apple? Andiamo a vederla. Che bello, non mi state chiedendo dei titoli italiani. Questo mi riempie il cuore di gioia. Vuol dire che siete evoluti. Bravi! Eccola qua. Beh, guarda anche qua, dove gli ho tirato un supporto, un supporto, un supporto statico, sul minimo, che ha registrato ad agosto dell'anno passato, a 92. Vogliamo svargheggiare dagli, adito a perdita anni 90, direi short a perdita anni 90. Pericoloso qui mettersi short, perché guarda un po', Ugo quota 23. La media mobile è veramente attaccata, a 98 e poco più, 98, 99, 99, per cui non avrei fretta. Cioè ci sono dei momenti in cui si va un po' in laterale, che vale la pena avere pazienza, aspettare per uno short la perdita di quota 90, di quota 92 che ha registrato, oppure cambiare opinione se il mercato decide che si torna a salire e comprarla a superamento di area 98, 99 con target 103 e con target ancora più ambizioso 110. È laterale più o meno da due mesi, per cui io onestamente non andrei short perché? Perché il mio amico Ugo può sempre sbagliare, da sempre farsi segnali come anche sono riportati e spiegati e mai nascosti nel libro, ma ho Ugo che quota 23 e ho i titoli molto vicini alla media mobile a 35, per cui attenzione a uno short. Ascolta, i dati a loro avviso portano un calo forte di vendite per quest'anno sempre di Apple. Sì, però ascolta, non pensi che possa averlo già scontato. Considera che oltretutto Apple adesso esce con nuove obbligazioni che la signora molto furbescamente già dagli anni passati ha emesso fuori dall'America e uscirà con nuove obbligazioni per pagare i dividendi ai propri azionisti e quindi no, non avrei fretta, seguila, perché potrebbe essere che invece con uno short ti arrivo al long. è sempre umili e veloci a cambiare opinione se abbiamo sbagliato. Ricordatelo, è basilare, il nostro nemico non è il mercato, il nostro nemico sui mercati finanziari siamo noi stessi. Cosa ne pensi di un long d'intesa? Andiamo a vedere, non mi sono evoluto. dove devo essere ho comprato una borsa scusate una borsa ho comprato un titolo un titolo bancario e ve lo voglio proprio dire perché vi faccio capire come nessuno è infallibile e come le cantonate le pigliamo tutti e come sapete benissimo io sono advisor di fondi detto questo andiamo a vedere intesa guardate intesa oltretutto è uno dei pochi bancari che rispetto a Unicredito rispetto a altri nello scivolone di fine anno cioè di inizio anno scusate mi ha tenuto molto meglio rispetto a Unicredito rispetto a tante altre competitor analoga situazione guarda qua Ugo 25 per cui mi direbbe long di intesa in realtà il long non sarebbe che ho conclamato fino a o meglio Ugo mi dice long ma il sistema il metodo di lavoro non è long perché siamo sotto la media mobile a 35 valuta come va l'Italia se metterti long su questo titolo perché superare 2,60 vorrebbe dire aprire ampi spazi ampi spazi di salita ma attenzione io porrei un supporto in area vedete mi sono posizionata col cursore vedo un supporto statico in area 2,28 ecco valutate cioè se l'indice italiano deve perdere 17 può essere che a 2,28 2,26 intesa ancora la vedete fate molta molta attenzione se vi mettete long dopo questi giorni di rialzo dei titoli fissatevi veramente degli stop loss e signore dio non spostateli perché se no rimanete rovinati e invischiati in posizioni long che non riuscirete mai più a recuperare come Monte Paschi Siena tanto nel frattempo visto che Gaia è arrivata in ufficio da me nell'applicare il suo metodo appena ho segnale verde per l'entrata molto spesso i prezzi ritracciano e vanno in stop sbaglio qualcosa devo aspettare altri segnali può essere che tu sbagli qualcosa utilizza il sito la sezione domande e risposte di vivere di mercati per farmi proprio un esempio pratico magari con grafico con grafico abbinato che così lo possiamo vedere vedere assieme vediamo altre domande mi puoi vedere grafico stocks adesso lo guardiamo Nicoletta si dice che sono i fondi a muovere i mercati il suo fondo è in grado di muovere i mercati il mio fondo è in grado di muovere i titoli sottili altro che sì è per quello che io sto fuori dalla borsa italiana eh sì 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 decisamente sì stocks euro stocks vediamolo qua sì vediamo lo stock poi rispondo su intesa da Ermanno vedete analoghi sono tutti uguali guardate 18 di Ugo ma siamo sotto ancora le medie 35 uguale signori quello che è successo la settimana scorsa ad oggi è solo ancora semplicemente un rimbalzo tecnico sopra qui possiamo avere spazio di salita qui spazio di salita qui qui veramente direi come il 2000 che dicevamo prima largo circa di S&P 500 ok il peggio per il momento passato beh non è distantissima l'EMA 35 da intesa e voi sapete nel metodo di lavoro che se anche Ugo quota 25 finché i prezzi sono sotto finché i prezzi sono sotto non entra il segnale long e beh sì è un 8,80% in realtà beh qua un po' meno perché non è aggiornato però cioè se ti fissi se entri subito adesso guarda già tanto domani che succede se 17 tengono o non tengono se 17 tengono potresti provare il long in virtù di questo in virtù del delta che c'è arrivare alla 60 alla 35 ma fissati il livello di sotto dei quali dici no ho sbagliato concludo con l'ultima mi fai vedere ancora il Nib sei in Svizzera e ti fissi col Nib eccolo qua ancora sotto 20 ancora sotto EMA e con allo stato attuale della chiusura di oggi attenzione a quota 17 se persa provabile che si va a chiudere il gap e provabile che se andiamo a chiudere il gap qui non basta direi che vi ho attediato per oltre un'ora ho risposto a moltissime delle vostre domande se ne avete altre da fare utilizzate il sito vivere di mercati utilizzate il menu domande e risposte grazie a tutti di essere stati così numerosi con me stasera e ricordo a tutti che se non già domani nella prossima nella prossima giornata questo stesso webinar lo potrete rivedere a sfinimento e a noia sul sito vivere di mercati per tutti voi grazie a tutti e buona serata grazie a tutti